Ciao ragazzi, qui Marco Pesenti, diamante e fondatore doTERRA Italia. Oggi parliamo dell'olio essenziale di incenso, ovvero il frankincense. Si tratta sicuramente di un olio dalle proprietà eccezionali che però non vediamo in questo video. In questo video vediamo piuttosto perché il frankincense doTERRA è diverso da tutti gli altri presenti in commercio, vediamo dove sta la vera differenza e per farlo facciamo parlare direttamente una donna del Somaliland che è attivamente coinvolta nel processo di raccolta e di selezione dei granuli di incenso, ovvero i granuli di resina di bosveglia, questi qua che ho in mano, eccone qua uno, da cui appunto viene estratto l'olio essenziale per distillazione. Il video sarebbe in inglese, però per facilità di comprensione ho chiesto a mia moglie Gloria di doppiarlo, quindi adesso lo vedrai in lingua italiana, però se volessi vederlo in lingua originale, quindi in inglese, ti metto il link qui sotto in descrizione. Cosa c'è in questa bottiglietta? Per me c'è amore. In Somaliland la vita è dura e le opportunità sono scarse, soprattutto per le nostre figlie. Ma doTERRA ha riconosciuto la nostra devozione per gli alberi di incenso che coltiviamo da generazioni. Così abbiamo iniziato una collaborazione ed allora tutto è cambiato. Mio marito non teme più intermediari corrotti o raccolti scarsi, perché doTERRA garantisce un prezzo di mercato equo e pagamenti anticipati. Io non ho più paura di essere molestata mentre smisto la resina di incenso, perché doTERRA assicura un ambiente di lavoro sicuro. Ma la cosa più bella è che la mia bambina non è più costretta a lavorare con me, perché doTERRA ha costruito delle scuole per dare un'opportunità ai nostri figli. Questo viaggio di amore non finisce qui. Dopo aver selezionato le resine più pure, queste vengono spedite alla distilleria doTERRA in Bulgaria, che impiega responsabilmente decine di artigiani del posto. A differenza di altre aziende, doTERRA usa metodi biologici di raccolta e distillazione per conservare con cura le proprietà benifiche dell'incenso. Dopodiché, quest'olio arriva al laboratorio all'avanguardia di doTERRA e qui gli scienziati effettuano test avanzati per garantirne la purezza e l'efficacia. doTERRA collabora anche con oltre 100 centri di ricerca, università e strutture mediche per trovare le migliori applicazioni degli oli essenziali. doTERRA fa tutto questo perché ha a cuore la vostra famiglia, quanto ha a cuore la mia. Che cosa c'è in questa bottiglietta? Per me c'è amore. Bene, sono certo che adesso avrai capito qual è la vera differenza dell'incenso doTERRA. non è solamente un olio di qualità eccezionale, ma è anche un olio che viene estratto, viene raccolto con amore e utilizzarlo, acquistarlo, farlo conoscere dalle persone vuol dire anche fare la differenza, non solamente nelle nostre vite, ma anche nelle vite di intere comunità come quella delle persone del Somaliland. Per questo video quindi è tutto, per ulteriori informazioni o per acquistarlo col 25% di sconto, ti consiglio di contattare chi ti ha inviato questo video, se invece sei capitato qua per caso e te l'ho mandato io, contattami su WhatsApp, ti metto qua sotto il mio numero e ti risponderò al più presto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!